Spetterà Filippo D'Averio stimare il prezzo del prezioso carteggio vasariano. Il noto critico d'arte è stato infatti nominato dal Tribunale di Arezzo perito super partes per la valutazione del prezzo di indennizzo dell'archivio Vasari. Il ministro dei beni culturali nel decreto di esproprio dello scorso aprile lo ha stabilito in 1,5 milioni, cifra contestata dai proprietari espropriati i fratelli Festari che hanno avviato la procedura giudiziaria. Gli altri periti sono Renato Saggiori, scelto dalla famiglia, e Francesco Cagliotti, nominato invece dal Ministero. Due giorni fa aveva rinunciato all'incarico Claudio Strinati, ricusato dai Festari che in precedenza avevano contestato anche la scelta dell'ex ministro Antonio Paolucci, poi ritiratosi spontaneamente. Le carte, tra le quali ci sono anche un sonetto di Michelangelo e le lettere dei grandi del Rinascimento, sono conservate in un armadio di ferro nella casa di Giorgio Vasari. La contesa sull'archivio va avanti da decenni ed è passata anche attraverso accese polemiche e procedimenti giudiziari, sia penali che civili.